Ma che cos'è veramente la famiglia? La famiglia. Amici, vogliamo dire la verità. La famiglia è una grande rottura di coglioni. Ma sì, quattro o cinque strani che si odiano fra di loro costretti a convivere sotto lo stesso tetto, amici. Ma poi, non si scopa mai. Io veramente, per indigere il biscottino, mi sono dovuto fare la manda una certa Sonia Brand, una cagna, dice che vuol fare l'attrice, ma secondo me è incapace. Una cagna, peggio di Susanna, mia figlia, ecco. Ecco, scusate, ma era come avete capito una gag scritta apposta proprio per cogliere la risata. Abbasso la tua vita, questo qua è scimulito. Tant'è vero che si è sposato un puttanoro, dove sta la tua moglie? Ah, eccola qua, a vincere. Fotografa per puttanoro. Non vi sposate, abbasso la famiglia.